E per favore, non dimentichiamo di pregare per la martoriata ucraina. Tanto bisognosa di vicinanza, di conforto e soprattutto di pace. Il sabato scorso, un nuovo attacco missilistico ha causato molte vittime civili, tra cui i bambini. Faccio mio il dolore estraziante dei familiari. Le immagini e le testimonianze di questo tragico episodio sono un forte appello a tutte le coscienze. Non si può rimanere indifferenti. A tutti la mia benedizione.